Buonasera a tutti i telespettatori TR24 e Teleromagna da Andrea Raggini. L'ultimo giorno del 2017 è trascorso con una giornata spesso grigia. Un peggioramento giungerà nelle prossime ore dai settori occidentali e interesserà buona parte della nostra regione nella giornata di domani ma il brindisi al nuovo anno lo faremo con cieli grigi e senza di precipitazioni su gran parte del nostro territorio ad esclusione del Piacentino dove le piogge dovrebbero arrivare prima della mezzanotte. Poi durante la notte questi rovesci si intensificheranno su Piacentino e Parmense e poi nella mattinata si estenderanno all'Emilia ed entro il pomeriggio del 1 gennaio 2018 i rovesci giungeranno su Ferrarese e Romagna. Ancora temperature molto alte sull'Appennino scenderanno solamente tra la notte e la giornata di domani. Inizialmente la quota neve sarà superiore ai 1800 metri poi durante la giornata scenderà fino a 1400-1500 metri e dal tardo pomeriggio qualche fiocco atteso fin sui 1000 metri soprattutto tra Bolognese e Romagna. La situazione vedrà un miglioramento tra la sera e la notte e un nuovo peggioramento potrebbe giungere martedì mattina con le ultime precipitazioni su Romagna nevose intorno ai 900-1000 metri. Le temperature molto miti in queste ore infatti anche il brindisi lo faremmo con valori miti in Appennino. Domani avremo un calo termico a partire dalle miglia temperature massime comprese tra 6 e 9 gradi. Ventilazioni in aumento da prima dal sud ovest poi dal nord ovest nella giornata di domani con mare mosso. Per ora è tutto tantissimi auguri di buon anno a tutti telespettatori TR24 e Teleromagna da Andrea Raggini.